I contagi da coronavirus all'interno della nostra città, dato ufficiale di ATS pervenuto al protocollo del Comune, sono 84. Questa mattina ho diretto una riunione del Centro Operativo Comunale e abbiamo deciso di utilizzare il numero della protezione civile come numero aggiuntivo in supporto a quelli di emergenza già conosciuti. Sulla pagina Facebook del Comune e anche sul sito del Comune trovate tutte le indicazioni del numero telefonico. Siamo anche partiti e stiamo implementando il servizio di igienizzazione della città e a breve toccheremo ogni quartiere. In questo momento abbiamo in corso dei posti di blocco per verificare se le persone in circolazione hanno motivi compatibili con i DPCM. Ricordo a tutti di stare in casa perché soltanto in questo modo sconfiggiamo il virus.